Ha iniziato giovanissima ad avere le prime esperienze dal vivo come cantautrice e poi come solista di un gruppo rock funky italiano, i Missing in Action, che ottiene ottimi riscontri nel circuito locale e nazionale. Nel frattempo comincia ad avvicinarsi al jazz e allo studio della tecnica vocale, frequentando gli insegnamenti di cantanti come Lilian Terry, Jay Clayton, Bob Stoloff, Rachel Gold, Ines Reiger, Mark Murphy, Rosetta Pizzo, Francesca Scaini e altri. L'impegno della musica. Condotto di pari passo agli studi universitari. Laureata in lettere dal 1994. La vede lavorare professionalmente in molti studi di registrazione. Blue Train, Mattis, Telex, Condulmer, in quest'ultimo, in particolare, affianca come corista nomi quali Paola Turci, Donatella Rettore, Francesco Baccini e Sabrina Salerno, con la quale ha realizzato anche due tournee europee. Collabora con Pino Donaggio nell'incisione di canzoni per filme da lui composte. Le sigle di format quali commesse. Don Matteo, la passista, e realizza jingles pubblicitari televisivi e radiofonici. Da anni insegna canto privatamente nelle scuole di musica. Music Club di Mestre, Gershwin di Padova, Paul Jeffrey di Caorle e altre. Centinaia di serate in tutta Italia l'hanno vista apprezzata protagonista di repertori cover, jazz e inediti. Nel 1999 ha vinto una borsa di studio per la partecipazione ad un corso per interpreti e compositori presso il CET, Centro Europeo di Tuscolano diretto da Mogol. Collabora come solista col coro gospel italiano, Venais gospel ensemble, col sestetto vocale, VGS Time Out, diretto dal maestro Luca Pitteri. Maestro di canto della trasmissione Amici di Maria De Filippi. Con Maurizio Cammardi e Nde Cammeren Savol. Con questi ultimi realizza, per le edizioni del manifesto, il CD La Frontiera scomparsa dove duetta insieme a Ricky Gianco e a Mauro Ermanno Giovanardi Day. La Cruz, ha partecipato come ospite nel lavoro discografico del marito Maurizio Nizzetto Shade, che ha avuto ottime recensioni. Da Enzo Siciliano su Venerdì di Repubblica a Musica Jazz. Jazz Ita Chitarre. Tra il 2000 e il 2002 ha fatto da corista per le ultime produzioni discografiche di Ivana Spagna e. Di Paolo Belli. Oltre a ciò, ha partecipato come cantante a trasmissioni televisive delle reti Fininvest accompagnando artisti. Quali Elisa, Albano, Renato Zero, Massimo Ranieri, Paola e Chiara, Iga Zosec. Da un paio d'anni collabora con un progetto teatrale intitolato La Buona Novella, in cui ripropone, accanto ai monologhi dell'attore Giovanni Giusto, le melodie del famoso disco di Fabrizio De Andrè. Nel 2004 è uscito il suo primo lavoro discografico interamente scritto e interpretato da lei. Un'altra musica, un disco dalle sonorità acustiche dove i testi in italiano intrecciano melodie raffinate. A metà strada tra il jazz e la canzone d'autore. Col suo progetto di canzoni originali partecipa a importanti rassegne e festival. Nel maggio 2007 è stata selezionata per partecipare al festival della canzone d'autore a Dusseldorf e al festival di Mantova dove ottiene ottimi riscontri di pubblico e di critica.